Detto fatto, come annunciato il sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis ha dato il via al progetto Ospedale 4.0, un monitoraggio in remoto delle condizioni cliniche e dei movimenti dei cittadini affetti da coronavirus e in isolamento domiciliare. Il controllo avverrà attraverso un'app collegata ad uno speciale smartwatch. Ospedale 4.0, l'innovazione a servizio dei cittadini. Insieme a MaxSolution e IronNome abbiamo costruito un sistema innovativo di monitoraggio dei pazienti potenzialmente affetti da covid o positivi. Attraverso un orologio smart terremo sotto controllo tutti i parametri vitali dei soggetti e inoltre la propria geolocalizzazione. Si tratta di un sistema di monitoraggio a doppia valenza perché non solo osserviamo lo stato di salute e i parametri vitali dei soggetti, ma anche i movimenti e i contatti degli stessi.